Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Si benedetta a fare l'osso, benedetto il frutto del 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 frutto. Si benedetta a fare l'osso, benedetto il frutto del 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 fr Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era l'avete. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più esoggiose, nella tua misericordia. Santio Stacchio, lega per noi. Il tuo popolo è in cammino, cerca in...